eccoci qua live dalla Bobo Summer Cup qui a Cervia, un appuntamento straordinario dedicato allo sport e chi meglio non poteva esserci qua con noi che una splendida ex velina ciao Costanza, tutto bene? bene, benissimo, mi avete visto giocare? sì, abbiamo visto una spallonata che è arrivata prima nella nostra postazione dai, per essere donna me la sono cavata sì, dai, comunque solo il riscaldamento perché poi oggi pomeriggio comunque certo, assolutamente, prima stavamo facendo del riscaldamento e poi oggi pomeriggio giochiamo senti, quanto ti piace il foot volley? tantissimo, è troppo divertente e trovo che solo troppi uomini ci vorrebbero più donne a farlo solo che i cammini non ti danno la possibilità su questo sono d'accordo, guarda, assolutamente ho chiesto a due ragazzi che si stavano allenando, ragazzi posso giocare? anche io, loro hanno detto sì sì certo, però lo sapevo che stavano rosicando in realtà perché io ho rovinato il gioco beh, d'altronde dai, comunque è una bellissima presenza guardate, tutta bellina, con i suoi pantaloncini e allora, oggi pomeriggio quindi continuiamo col discorso torneo quindi sarai anche tu a far divertire i nostri ospiti delle tribune che sono carichissimi Alfantini, tutti presenti, mi raccomando aspettiamo, anche perché c'è una giornata che aiuta, non fa tanto caldo quindi dai, dai, dai da Radio Bruno e da Costanza una rivederci e ci vediamo qui Alfantini Bobo Summer Cup, ciao ciao